Noi abbiamo ordinato dei mix di assaggi, abbiamo preso questi piccoli hot dog, suppli, pizza, pizzette e questa bellissima lunghetta pizzetta con la curcuma. Abbiamo scoperto questo posto a Roma, una baccherì molto molto carina, elegante fuori, veramente veramente carina, un arredamento molto particolare e unico, guardate quanti fiori. Abbiamo già assaggiato e provato e posso dire che sono veramente buoni, guardate come sono originali, è un posto veramente veramente carino. E adesso vi faccio vedere quanta scelta c'è in questo posto, veramente buono. Pizza, tantissimi tipi di pizza, guardate questi panetti come sono carini, questi dog li ho provati sono molto molto buoni, anche questi al prosciutto. E poi qui abbiamo tante tante tipologie di pane, molto buoni, bravissimi e complimenti. Grazie. Noi.